In delle lebre più profonde continuiamo a parlare di bibite. Oggi useremo un frullato pescamela banana, molto buono, e lo uniremo sempre al nostro golosissimo XS. Power drink, pink, avevamo detto mango dovrebbe essere questo. Se non è mango è melograno e se non è melograno chi lo sa, chi lo sa. E gli uniamo, andiamo ad unirli in una combinazione sicuramente squisita, ma manca un po' di spezia, manca un po' di goloso pepe nero. Ho preso una cosa a caso, l'ho scoperto ora che è pepe nero. E andiamo, non si vede, facciamolo vedere, più o meno, casca tutto, più o meno. A metterlo dentro. Buon appetito!